Se sei rimasto senza euri e la crisi si sente già, non ti demoralizzare, comincia a viaggiare. Con Wikitalia tu lo sai, i soldi non servono mai, tanto ci sarà qualcuno che potrà ospitar. Che posso venire pure io? No, tu no. Vabbè, scusa eh. Dalle Alpi alla Sardegna e dal mare alla campagna, gira assieme a Frank & Max, proverai tanto relax. Con l'avvicinato e poi sul traghetto assieme a noi, mille strade girerai e l'Italia scoprirai. Da lavagna c'è palù, la lasagna con ragù, non la mangi più, piatti nuovi assaggerai. Il turismo intelligente poi diventa deficiente, se fai in giro senza idee, solo se vuoi raccontare. Che sei stato in Perù, in Norvegia o tipo tu, e non hai mai visto Narni, e non sai dove sta Terni, se la Sira sta più su, di Torino su per giù. Non lo saprai mai, se con noi non viaggerai. È Wicitalia il sito amico che ti fa capire che è bello vivere. Sì ma dov'è, sì ma dov'è, sì ma dov'è, sì ma dov'è. Dalle Alpi alla Sardegna e dal mare alla campagna, gira assieme a Frank e Max, troverai tanto relax. Da lavagna c'è palù, la lasagna con ragù, non te la ricordi più, Wicitalia è quello che... Buon Natale assieme a noi, buon Natale a tutti voi, buon Natale assieme a noi. Buon Natale da Wicitalia.